Ciao a tutti! State bene? Speriamo di sì! Sì, tantissimo tempo senza fare un video, siamo influenzate e non siamo più riusciti a registrare e volevamo aggiornarvi che abbiamo fatto qualche acquisto per i saldi, cosine nuove perché spostandoci poco, avendo poco tempo non siamo riusciti ad andare ai mercatini purtroppo speriamo di andarci presto e dobbiamo fare anche un video per ringraziare delle youtuber che ci hanno fatto dei pensierini di Natale li abbiamo già messi su Instagram e sono state carinissime, ci hanno fatto un sacco piacere, è stato come essere vicino a loro vi ringraziamo di nuovo e ringraziamo tutti i nuovi iscritti, ci fa molto piacere, grazie! sempre di più, grazie mille! E speriamo presto di registrare, volevamo solamente salutarvi così velocemente bene, un saluto! Un saluto! Ciao!